Malala Yousafzai ha vinto il premio Sakharov del Parlamento Europeo, un riconoscimento che viene attribuito ogni anno a chi si batte per i diritti umani e la libertà di espressione. Attraverso un blog, la giovane pakistana di 16 anni aveva difeso il diritto ad andare a scuola per le bambine. Per mettere a tacere la sua voce, un Taliban ha cercato di ucciderla nel 2012 sparandole in testa, ma la giovane è riuscita a sopravvivere e si è rifugiata in Gran Bretagna. Malala è tra le favorite anche per il primo Nobel della pace. Grazie.